La Corte d'Assise di Napoli ha condannato all'ergastolo Vincenzo Palumbo, il camionista di Ercolano che nella notte tra il 28 e il 29 ottobre del 2021 ha ucciso a colpi di pistola Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, due ragazzi di 20 anni, di Portici, che l'imputato credeva fossero ladri. La sentenza sarà emessa al termine di una camera di consiglio durata circa due ore e mezza, iniziata dopo una breve discussione dell'avvocato dell'imputato Giovanni Abet. Alla lettura della sentenza alcuni parenti delle vittime sono scoppiati in lacrime. Qualcuno ha anche accennato un applauso prontamente stoppato dal giudice. Entro 90 giorni saranno rese note le motivazioni. Era quello che ci aspettavamo, questo il commento della mamma di Giuseppe Fusella dopo la condanna all'ergastolo. La donna, come i suoi familiari e quelli di Tullio, l'altro ragazzo ucciso, ha sempre eseguito il dibattimento nella speranza di ottenere giustizia. Dopo la lettura della sentenza i familiari delle due vittime si sono allontanati in silenzio in compagnia dei loro avvocati.